Il presidente Iannone sulla fuoriuscita dei consiglieri PDL dalla maggioranza di Palazzo Sant'Agostino. Albanella ha pronto il primo canile sanitario, parla il sindaco Giuseppe Capezzuto. Vittime della mafia, Salerno in piazza per ricordare. Ben ritrovati dal Tg di informazione salerintana.it. In primo piano il presidente della provincia di Salerno Antonio Iannone che interviene sulla situazione politica determinatasi dopo la fuoriuscita del gruppo del PDL dalla maggioranza di Palazzo Sant'Agostino. Marina Santoriello. Presidente Iannone, il PDL in provincia di Salerno si colloca responsabilmente all'opposizione. Duro botta in risposta a distanza tra lei e Pasquale Aliberti che dice il presidente Iannone dovrebbe dimettersi. Ma questa settimana come un fulmine a ciel sereno nel senso che non era stato chiesto nessun incontro ufficiale per un confronto dagli organi di informazione. ho appreso che il gruppo consigliare del PDL si collocava all'opposizione così come avveniva in altri centri comunali. da quello che capisco dal comunicato stampa per una questione di rottura tra partiti non di certo per motivazioni di carattere amministrativo. Io ho detto e soprattutto ho praticato il principio declamato che ero serenamente al lavoro. credo che non si possa distrarre tempo rispetto alle problematiche di carattere amministrative che sono aggravate anche dai tagli fortissimi che il governo ha operato nei confronti degli enti locali e in particolare nei confronti delle province per accudire dei balletti di carattere politico. Io ho mantenuto una linea di serenità, una linea di coerenza dicendo che è decisione del Consiglio la mia reggenza nelle funzioni qui all'amministrazione provinciale e se quegli stessi consiglieri che hanno votato la decadenza di Cirielli e affidato il mandato al vicepresidente che era il sottoscritto se ci hanno ripensato ne spieghino i motivi e conseguentemente e coerentemente vadano a rassegnare le dimissioni se c'è la maggioranza del Consiglio che è d'accordo con questa decisione. Non c'è stata nessuna botta e risposta. Il sindaco di Scafati evidentemente ha problematiche relative alla situazione politica che si determina in vista del rinnovo dei consigli comunali di Scafati, Ponte Cagnano e di Campagna per parlare dei comuni superiori ai 15.000 abitanti. Io credo che i problemi tra partiti vadano affrontati tra partiti non si possono portare nei luoghi istituzionali questo tipo di difficoltà. Se ci fosse un giudizio negativo sull'amministrazione sarebbe un caso diverso ma anche questa la vedo un'ipotesi impossibile perché finora hanno sempre condiviso e votato tutte le decisioni quindi sarebbe un cambio di opinione troppo repentino per essere credibile. Io continuo nella mia attività, l'ho detto, non sono attaccato alla poltrona con senso del dovere e di responsabilità, sto portando avanti questo lavoro di fine mandato. Se, ripeto, i consiglieri non sono più d'accordo, come mi hanno insediato così possono decretare la fine dell'amministrazione naturalmente assumendosi le responsabilità rispetto ai cittadini. Intanto mini rimpasto in giunta, Michele Cuozzo prende il posto di Luigi Napoli una nomina che ha fatto anche discutere. Ma non si tratta di un mini rimpasto, si è trattato di una scelta che gli assessori sono fiduciari del Presidente ho letto di qualche polemica che credo sia dettata dal momento di delusione personale Napoli aveva preso il posto di Ciccone che non era un assessore che era stato sollevato perché aveva fatto male il suo compito e così anche per Napoli c'è stata questa decisione. Io non credo che la fiducia può essere qualcosa di carattere unilaterale soltanto del Presidente nei confronti degli assessori e credo che le decisioni vadano accettate con serenità quando sono in entrata e quando sono in uscita. Nascono in Consiglio Provinciale due gruppi Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale e Fratelli d'Italia Principe Arechi Sì, dieci consiglieri avevano già deciso di aderire al partito Fratelli d'Italia nella giornata di ieri hanno conclamato, hanno formalizzato la loro appartenenza a questi due gruppi, Fratelli d'Italia, sette consiglieri e Fratelli d'Italia Principe Arechi per inserire una specificità identitaria del nostro territorio. Naturalmente faccio i miei auguri ai neo capigruppi che sono stati eletti Franco Annunziata per il gruppo Fratelli d'Italia Antonio Anastasio come capogruppo del gruppo Fratelli d'Italia Principe Arechi e Flavio Meola come vice capogruppo del gruppo Fratelli d'Italia Principe Arechi Naturalmente insieme ai consiglieri che ringrazio per la fiducia è stata ribadita la voglia, la necessità di andare avanti con responsabilità nel mandato amministrativo e quindi continuiamo nell'auspicio e nella convinzione che è stato fatto un lavoro importante che deve conoscere il suo compimento. Al via la campagna d'ascolto sul progetto relativo agli interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno individuato dalla Commissione Europea fra gli interventi strategici nell'ambito del POR Campagna 2007-2013. Prima di completare la fase di progettazione definitiva la provincia intende acquistare ogni contributo e proposta utile nell'interesse generale del territorio e dell'economia locale. A tale scopo sono stati previsti incontri pubblici di presentazione del grande progetto in tutti i comuni interessati. La provincia apre le porti agli allievi della scuola Giacinto Romano di Eboli. Con tanto di taccuino e macchina fotografica i reporteri in erba hanno visitato Palazzo Sant'Agostino guidati dall'ufficio cerimoniale dell'ente. Prima tappa il salone di rappresentanza intitolato ai caduti nelle missioni internazionali di pace dove sono stati accolti dall'assessore al personale Amilcare Mancusi. Poi i giovani studenti hanno avuto modo di capire il funzionamento degli organi consigliari prendendo posto tra gli scrani dell'assise ed occupando anche quello del Presidente del Consiglio. Si è svolta Palazzo Sant'Agostino Libero Respiro 2013 la giornata nazionale del Polline dedicata all'ariobiologia e alle malattie respiratorie. Il seminario ha riunito specialisti di fama nazionale appartenenti alle associazioni e società allergologi e immunologi clinici. Il corso si è aperto con la presentazione delle misurazioni della stazione aerobiologica dell'ASL Salerno a cura del responsabile dell'unità operativa di allergologia dottor Vincenzo Patella che ha relazionato su un anno di conte polliniche e altri pullulanti atmosferici di interesse medico in provincia di Salerno. La giornata di grande interesse scientifico ha messo in luce con una tavola rotonda moderata dal dottor Giovanni Florio e dall'avvocato Romano Ciccone l'importanza del valore giuridico, economico e sanitario del monitoraggio degli ecosistemi e della conoscenza delle specie allergeniche presenti sul territorio. Dottor Di Rienzo, oggi giornata nazionale del Polline un'azione sinergica con la provincia di Salerno e l'ASL per informare i cittadini e anche i corsissi sulle malattie respiratorie. Giornata di grandissimo interesse ringraziamo il professor Patella che ha organizzato questo incontro e sono argomenti di grande importanza in quanto l'uomo non vive da solo vive in un ecosistema per cui uomo ambiente e noi aggiungiamo anche allergia è argomento di grandissima importanza indubbiamente entrano in questi incontri argomenti riguardanti l'inguinamento atmosferico ma non solo ma anche l'inguinamento diciamo di tipo naturale quindi il rapporto tra l'uomo per esempio e i pollini grosso interesse anche di carattere voglio dire come dire organizzativo a livello amministrativo in quanto già piantare delle pianti allergizzanti in una città significa aumentare poi la percentuale di pazienti che possono nel futuro soffrire di pollinosi. Le nostre telecamere questa settimana hanno fatto tappa ad Albanella nell'Oasi WWF abbiamo incontrato il primo cittadino Giuseppe Capezzuto vediamo informazione salernitane Albanella nel cuore delle Oasi WWF del Bosco Camerine qui la flora e la fauna sono quelle caratteristiche della macchia mediterranea da questo punto si parte alla scoperta della natura in un percorso dell'area natura Santa Sofia Siamo all'interno del centro visite dell'Oasi WWF del Bosco Camerine di Albanella un punto di ricezione turistica ma non solo ne parliamo con il primo cittadino Giuseppe Capezzuto un'Oasi che raccoglie un po' le tipiche realtà di queste zone Sì, è il polmone verde del comune di Albanella sono 110 ettri di macchia mediterranea oggi completamente fruibile e visitabile da tutti coloro che vogliono passare una giornata un po' diversa immersi nell'ambiente, ci sono 5 km di percorsi una guida WWF che li accompagna se i visitatori vogliono all'interno dell'Oasi e poi ci stanno tanti una cartellonistica dove è possibile leggere tutto ciò che si trova intorno quindi è un bel lavoro che abbiamo fatto negli anni perché abbiamo ristrutturato e rivalutato l'Oasi con un finanziamento regionale, abbiamo recuperato una serie di sentieri di vecchi sentieri con pietra locale abbiamo fatto un intervento certosino e adesso è gestita dall'UOF per 5 anni e sarà promossa come tutte le Oasi d'Italia l'unica differenza è che è di proprietà comunale Intanto si avvicina la primavera e ci sono delle nuove iniziative presso questo Oasi Già sabato prossimo ci sarà un'iniziativa, abbiamo aderito all'iniziativa dell'UOF quella dedicata all'ora della terra dove noi coinvolgiamo le scuole e simbolicamente spegneremo una parte della pubblica illuminazione del comune di Albanella Sindaco, con le nostre telecamere abbiamo visto anche il primo canile sanitario della provincia di Salerno che sarà realizzato in collaborazione con la provincia e con l'ASL uno sforzo sinergico che sarà importante anche per combattere il randaggismo Assolutamente sì, come avete visto i lavori sono in corso noi contiamo prima dell'estate, possibilmente a maggio di inaugurarlo e come lei diceva è stato organizzato in maniera sinergica con la provincia di Salerno che ha contribuito economicamente e l'ASL di Salerno perché sarà fondamentale appunto la presenza dell'ASL e dei veterinari dell'ASL perché sarà un canile sanitario dove sarà fatta la sterilizzazione degli animali ma cosa più importante saranno custoditi nel vero termine della parola gli animali all'interno del canile E saranno previsti anche percorsi per la pet therapy? Sì, proprio perché il canile come avete visto è inserito nell'oasi quindi da lì si snodono una serie di percorsi e c'è la possibilità per medici, dottori, esperti di accompagnare i pazienti si prendono a guizzaio il cagnolino e fanno il percorso all'interno dell'oasi Abbiamo visto questa bella realtà, vocazione agricola Albanella si distingue anche per la produzione di olio e per la mozzarella Dalle immagini si vede tutto l'aspetto bucolico del territorio di Albanella comunque sì, in primis la mozzarella abbiamo 15.000 capi bufalini sul territorio abbiamo anche una produzione lattiero-caseare molto importante 5 caseifici che producono e esportano un po' in tutta Italia ma anche in Europa, probabilmente anche in America poi abbiamo anche una produzione di olio importante sia per esigenze familiari ma anche per venderlo avete visto anche gli alberi secolari le piante di ulivo piantate si dice almeno come dicevano i miei nonni nel periodo di Garibaldi L'amministrazione comunale anche in tempi di magra per i tagli del governo Monti e per i trasferimenti che non arrivano più sta facendo grossi sforzi anche per riqualificare il centro storico Abbiamo dei lavori in corso, interrotti proprio perché dalla Regione e quindi dallo Stato non arrivano più i fondi assegnati i tempi si sono veramente dilazionati sono diventati tempi biblici per cui le imprese non sono più disposte ad anticipare soldi se non hanno la certezza dei tempi da parte della Regione Gambani certezza che purtroppo non c'è teniamo il lavoro delle vie d'accesso all'Osi di Bosco e Camerina a punto interrotto da oltre un anno perché il sal dalla Regione non è ancora arrivato quello del centro storico siamo quasi alla fine manca il completamento del museo e la penultima rata di quasi 300.000 euro ancora non è arrivata e da Natale che stiamo spingendo per avere la liquidazione ancora non ci siamo riusciti speriamo prima di Pasqua una spinta si dà anche alla cultura con il museo civico e anche la realizzazione di un libro importante per la storia di Albanella raccogliendo anche il comune sentire di tutta la popolazione abbiamo pensato di costruire il museo civico di Albanella che non è soltanto un museo tradizionale perché è inserito nella villa comunale una parte molto bella di Albanella su una collina di Albanella vicino al santuario di Santa Sofia la villa comunale sono circa 4.000 metri quadri quindi per cui è un posto che potrà essere usufruito per qualsiasi motivo ma anche quello culturale perché il museo sarà impostato come museo di arte contemporanea avrà la sezione archeologica ma avrà anche tante altre cose che si potrà fare tra l'altro il tetto di questo museo l'ho detto spesse volte non è un tetto normale ma è un teatro per cui sulla collina di Albanella che affaccia proprio sulla piana di Pestum sarà possibile svolgere attività teatrali un po' come si fa a Ravello il prossimo 22 marzo ai cittadini sarà presentato appunto il progetto Albanella Nostra che in effetti si tratta di un progetto che raccoglie una serie di capitoli scritti a più mani e tirerà fuori il libro sulla storia di Albanella a un po' come si tratta di un progetto a un po' come si tratta di un progetto anche da Salerno parte un messaggio di speranza e di impegno nella lotta contro la criminalità organizzata nell'ambito della 18esima giornata della memoria e ricordo delle vittime della mafia Marina Santoriello il segno più importante della partecipazione civica anche per combattere le mafie è quello della denuncia non bisogna avere paura di affidarsi alle istituzioni o ai colpi di polizia per denunciare degli accadimenti che sono nella nostra quotidianità quindi non solo il segno della partecipazione attiva del rispetto degli uni con gli altri ma quello dove si vedono dei comportamenti difformi di avere il potere e il dovere di denuncia Salerno celebra la 18esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie a testimoniare la presenza dello Stato le istituzioni, le associazioni, gli studenti tutti raccolti in piazza Cavour per ricordare e non dimenticare perché continui l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione per dire sì alla giustizia sì alla verità per tutte le vittime innocenti la manifestazione promossa da Libera in tutte le piazze italiane ha avuto il suo momento più sentito nella lettura dei nomi delle vittime e poi quel gesto simbolico di imprimere l'impronta della mano sull'enzuola bianche Le iniziative di Palazzo Sant'Agostino e del Fondo per l'Ambiente Italiano in occasione della giornata FAI di primavera nella rubrica Intramenia curata da Luisa Tornitore Provincia e FAI si alleano in favore dell'arte in occasione della ventunesima giornata di primavera infatti l'assessorato e beni culturali al patrimonio aderito all'evento del Fondo Italiano per l'Ambiente aprendo all'intera comunità salernitana alle porte di tre siti deputati alla cultura una serie di iniziative che oltre a far conoscere l'anima segreta di luoghi non accessibili sempre al pubblico come le sale settecentesche di Palazzo d'Avosta o il cortile dell'Arco Catalano probabile ingresso di un importante dimora nobiliare del 400 facciano dialogare il passato con la contemporaneità è il caso della mostra per Europa di Paolo Signorini allestita nella Pinacoteca Provinciale di Palazzo Pinto un'esposizione che indaga sul rapporto Europa e cultura e che l'artista salernitano recupera evocando le radici classiche del mito raccontando gli uomini e le opere che hanno incarnato l'idea di un occidente libero anche per questa settimana è tutto la redazione di informazione salernitana vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione a tutti